Allora io provo a chiamare ancora questi biglietti, precisamente ne avrei uno per il 132, uno per la 32, uno per la 36, anzi due per la 36. Questa donna deve essere molto bella o molto ricca. Allora, eccola qua, vai, ciao, come ti chiami? Si chiama Roberta, da dove vieni Roberta? Viene da Bologna, è un indigena di Bologna. Cosa fai di bello nella vita? Lavora, bene, perfetto. E come vorresti l'uomo ideale? Allora, lo vuole sincero, semplice e che abbia della chimica. Cioè la deve avere con te la chimica. Ah, tu devi avere la chimica con lui. Ah, ti vuole la connessione, ecco. Bene, bene, c'è un uomo che ride di questo. Ecco qua, due messaggi per te. Speriamo che ti vada bene. Eh, eh, te vuoi? So, c'è ragazzi quanti messaggi. Allora, c'è un messaggio per la 32, uno per la 37 e uno per la 38. E uno anche per la 25. Chi è qua? 37. Ecco qua la 37, allora. Ciao 37, come ti chiami? Consuelo. Consuelo, da dove vieni? Da Castelguelfo.